ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qui simpaticamente tutti assieme ancora per dare un'occhiata alle vostre collezioni di orologi che sono simpaticamente presenti in questo video no questo video funge da contenitore per i vostri contenitori di orologi detta così ok quindi oggi è una puntata un po corta e mi sembra ho messo solamente tre video così proprio a un passato proprio per farla fruire un pochino più veloce del solito ditemi cosa ne pensate se le preferite più corte più lunghe ma che ne so decidete voi come partecipare lo sapete bilim bilim bam vi ricordo il quinto watch meeting il quinto raduno del canale che si terrà domenica 12 maggio alle ore 15 presso la gioielleria pasquale domenici di viareggio nella zona pedonale antistante mettiamo su un gazebo e i vari banchetti ci incontriamo lì fuori per dare un volto ai nickname che vediamo nei commenti sotto no per parlare di orologi per incontrarci poi anche per entrare provare gli orologi vedere un po chi c'è chi non c'è ci saranno i vari rappresentanti delle case orologiere ci sarà oris con un banchetto ci sarà longin con un banchetto è un esponente anche che è in grado di rispondere tecnicamente ai vostri quesiti oris longin vulcan uguale che porterà qualche spaccato di calibro anche da mostrare agli amici orologica mai l'amico francesco che anche lui sarà presente per poter parlare con gli amici poi c'è l'amico umberto pelizzari no testimonial di oris noto apneista e anche uomo di spettacolo ultimamente poi ci sarà il gadget per tutti una bella polo da indossare da portare via ups si porta via polo poi non lo so anche l'amico francesco voleva fare dei gadget vediamo un po come come si mette insomma pur pur ridi situazioni di cose che ti portano poi a conoscere anche i rappresentanti delle case no ci saranno che magari qualche novità boh non lo so qualche primizia messa lì sul tavolo sul banchetto per farvela vedere ai vostri occhi magari senza fotografare ma che ne so voi venite e lo scoprite insomma la cosa è su cosa non tanto per me per tutto il contorno che c'è dai dai venite domenica 12 maggio alle ore 15 vi aspetto dai vi aspetto ora vi mostro l'orologetto del giorno che è questo bellissimo omega speed master il moon watch il mio orologione da 42 mm che io indosso con il cinturino in coccodrillo nabuccato cioè per quelli che non sanno cos'è nabucco nabuc 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 è scamosciato solamente che il termine scamosciato si usa per la parte interna della pelle per la crosta per la parte meno pregiata invece nabuc è quando si fa questa lavorazione vellutata ma sul fior fiore come fior fiore cop sul fiore della pelle cioè la parte più pregiata viene smussata resa vellutata e insomma mi piace insomma ho spiegato come è la situazione adesso bando ai discorsi no guardiamo un po i video vediamo chi c'è chi non c'è la barra spaziatrice qua è pronta a subire colpi del destino e il destino a inizio con il mio indice fuoco hi davide ciao a tutti e guten tag guten tag scusate il mio italiano sono un misto di burger americano e crocco tedesco bravo foschwagen telefunken il tedesco lo sentite che è veramente più duro rispetto al francese no presage presage bla 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 telefunken proprio veramente duro ai miei amici mi seguono che dall'estero vai sono qui in toscana fa poco grazie per il tuo canale che mi serve anche per imparare l'italiano e capire tutte le dialette bravo ho cominciato in 2005 col mio primo orologio vero quando lavoravo in svizzera è stato un top classico di 39 mm bello si chiama credo il numero 3706 poi ho trovato un iwc acqua tema 2000 in titanio a new york city è stato scontato tanto ero preso quello anche dopo dieci anni col fliga ho deciso che 39 mm sono troppo piccolo per me i miei gusti e ho comprato questo iwc questo fa parte della serie gst dei primi anni 2000 bello è titanio gst vuol dire gold steel titanium in titanio come questa acqua tema che ho avuto e l'acqua è venuto con questo braccialetto bellissimo che mi piace tanto che è molto comodo e posso usare su questo orologio anche perché quello è venuto con un cinturino in velcro brutto 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 e questo è un crono normale ma anche un attrapante non so se si dice in italiano attrapante per un secondo tempo si spettacolo si chiama rosso e questo bianco continua poi vanno insieme bello allora dici rattrapante quando ho comprato il mio primo orologio vero sono stato anche in 2005 sono stato interessato nelle panerai è bello ma ci voleva anche fino al 2020 che ho comprato quello non è un un tipico tipico panerai perché ha un bracciale in titanio è automatico non carico manuale ma quello è il mio tutto il giorno a un 300 metri di profondità water resistance e così posso fare tutto con quello non devo pensare con un cinturino in pelle sì comunque insomma io mi sono anche un po stufato dei discorsi dei puristi o diciamo di colore quali vogliono identificare un determinato marchio ora stiamo parlando di panerai ma poi si può parlare di qualsiasi altro all'interno di determinate no paletti no il panerai deve essere o manuale oppure non manuale col cinturino deve essere grande deve essere senza lancetta dei secondi ma non rompete gli scatoloni ognuno lo prende come gli pare un panerai in titanio un panerai in titanio ci sono quelli da 40 mm e vanno bene anche quelli da 40 mm c'è un impermeabilità 30 metri ecco 30 metri magari io li infermo un po ma proprio più che altro per una specifica tecnica non perché non corrisponde all'idea di paneraio solamente perché 30 sono pochi però insomma i soliti palletti qua estetici di materiali di misure ma un panerai è sempre un panerai in qualsiasi ognuno lo sceglie come vuole hai fatto bene a prendere col bracciale io non lo prenderei col bracciale però hai fatto bene se mi se vado in acqua o no io uso questo quando faccio dei viaggi anche sulla spiaggia e tutto questo bravo in titanio anche perché titano mi piace abbastanza spesso 170 grammi tutto in titanio allora si fa vedere 44 mm ma a me piace ma mi piacciono la storia il disegno certo certo anche a me adesso una volta no adesso sì ovviamente il rischio delle panerai che comincia una malattia 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 ecco qualcosa dicevo io la lancetta dei secondi no a me non mi piace ma è una questione mia personale qualsiasi orologio senza lancetta dei secondi fatico ce l'ho c'ho un longin 32 mm in oro che è senza lancetta dei secondi ma lì faccio per collezionismo mi ci vuole un longin anche così ok però in generale se devo prendere un orologio nuovo di pacca o anche secondo polso ma contemporaneo spendere dei soldoni che mi deve soddisfare ecco quello lì è un punto che non riesco a un deal breaker mi impedisce l'acquisto la mancanza della lancetta dei secondi mentre molti dicono che deve essere così io stare lì a guardare la lancetta dei minuti che passa per vedere se si muove l'orologio cioè quanti minuti devi stare nella vita invece con quella dei secondi funziona funziona meno male bello comunque ha fatto hai fatto bene poi tenere due c'è sta uno così uno cosa pensi che ha bisogno di avere anche altri modelli nonostante che sono abbastanza simile ci sono differenze che per i paneristi direi sono molto importanti questo è un classico classico 372 47 mm tutto manuale senza data cinturini che quando hai una panerai compra tanti con john cool straps e anche altri in toscana e in italia dove c'è ha veramente una bella scelta di certo per pelle fare contento la malattia delle panerai cambiare il cinturino fa è un gran parte di avere un panerai e come sapete bene se cambia un cinturino c'è come avere un altro orologio per questo giorno più o meno da se parliamo di panerai anche non solo delle luminor ma anche delle radio mio molto classico cercato un modello radio che mi piace con queste anze classico senza la sicurezza del lumino che sono qua ma i primi modelli della panerai e è uscito questo modello due mesi fa e mi ha percepito immediatamente e l'ho preso quant'è di diamo? 45 mm carica manuale extra secondino e il dial la faccia è un una coppia dei primi modelli della panerai bello grazie ancora per il tuo canale e love and rock and roll love and rock and roll in tedesco love and rock and roll bravo così ci piace dai cosa c'è fatto a vedere se abbastanza perlomeno abbiamo visto dei marchi che insomma non è che si vedono così spesso no ora non si aspetta i rolex pi omega e pt pum pt pi tudor e siamo sempre lì questo qua ci ha fatto vedere gli ivsi e i panerai finalmente qualcuno che spende dei soldoni perché ci ha speso dei soldoni per tutti questi modelli qua oddio su quelli su quelli vecchi vecchi su quelli degli anni 2000 come i tuoi ivsi l'acqua timer mi sembra belli mi piacciono ma hanno come al solito non arrivo a spendere quei soldi per degli orologi di vent'anni così fatico fatico mentre apprezzo tutti tutti i panerai che hai mostrato li apprezzo però io non li comprerei non comprerei il radiomir lo dico ora poi ragazzi se se mi smelmo ci sta tutto nella vita che poi dopo mi innamoro è il più bello di tutti e fino a ieri avevo detto che faceva penare per per essere gentile radio video non è che mi fa impazzire quello senza lancetta dei secondi non è che mi fa impazzire l'altro sì però alla data per esempio piacerebbe senza data e con la lanciata dei secondi insomma poi piace anche submersible quindi non è che ce ne sono di panerai che mi piacciono solo che ormai sto perdendo in questo momento non posso e sto perdendo l'attimo per l'estate per averne uno no perché l'ideale sarebbe per l'ora così tutta l'estate circo il panerai al mare cioè lo vogliamo usare per quello che deve essere poi per prenderlo a settembre ottobre e poi tenerlo lì a fargli vedere la muffa delle nuvole l'umido il novembre i morti il primo novembre santi la tristezza va bene rimandato l'acquisto del panerai rimandato prossimo ciao davide sono massimo da massimo e ti ringrazio per il lavoro che fai su questo blog che c'era anche informazioni utili passo subito a bando alle ciance a mostrarti i miei orologini belli il primo un brising vintage di solito siamo abituati a vederli crono mai visto questo invece fa parte un po della prima produzione la cassa cuscina così spettacolo la cassa d'oro a 14 carati quattordici un emilton top team o matic che spettacolino anche questo cassa d'oro 14 carati questo omega è un ricordo del nonno che purtroppo ormai che purtroppo non c'è più è un si master e l'ho fatto revisionare lasciando però che nel dial rimangano i segni del tempo della vita di mi ha fatto bene bravo questo invece un orologio che vediamo anni 90 non ricordo di aver visto nei tuoi blog nel tuo blog e meno male vediamo se riesco a fartelo vedere un po' ma no ma no ecco è un bertolucci un crono e pulcra si chiama oro e acciaio non ne ho visti non so se ne hai presentati ma io nei tanti blog nelle tante puntate tue non l'ho visto in precedenza è difficile che qualcuno compri era un orologio a mio avviso di grande qualità costruttiva se lo dici che cominciamo poi con quello che è il nervo della mia collezione perché io sono appassionato di seiko ecco sei chi sta questo è un king seiko high bit sarebbe certificato cronometro ma non cosche secondo invece quelle che erano le normative giapponesi comunque orologio precisissimo che come sapete il cos che è riservato agli orologi di produzione svizzera no che sia razzismo o no è così e d'altronde è un laboratorio svizzero istituzionale però sarebbe simpatico per dire un termine utilizzato che anche al giorno d'oggi seiko o i giapponesi mettetevi d'accordo tra giapponesi tanto non è che ce n'è o gli asiatici fate qualcosa di asiatico che istituissero un laboratorio oppure un punto di riferimento per la cronometria in modo da dire io i miei li faccio passare lì da quel laboratorio lì e questi seiko qua sono certificati giumberto per dire un nome a casa no tutti certificati giumberto è così oppure che seiko grande casa qual è se ne auto certificasse no c'è un laboratorio interno sono tutti passati per questa da questa parte qua tutti quelli più costosi passano di qua ecco di qua i calibri e così crei anche una certa differenza tra i calibri perché loro li forniscono anche a terzi no seiko l nh 35 uguale a 4r 35 e così via crea anche uno scalino cioè i miei che incassano i miei orologi sono tutti certificati da me in questo modo qua gli altri che diamo a fornitura possono venire più o meno bene oppure che in casa si preoccupi di regolarli di testarli cavoli vostri i nostri sono fatti così sarebbe interessante come come lo erano questi qua continuiamo con questo seiko alpinist alpinist che ben conosci certo lo hai anche presentato nel tuo blog dedicandogli un'intera puntata questo è un diver io ho tre diver il terzo in arrivo è un turtle questo è un diver dedicato a un manga giapponese non sono appassionato di manga giapponesi ma mi è piaciuta molto questa linea particolare bello questo è in questo momento mi fermo perché è bello perché pur essendo pur di essendo dedicato ad un manga non ha niente a che vedere no a volte si vedono quelli dedicati a x y z che ci hanno che riproducono solo sul quadrante o sul fondello il personaggio no con la katana quello che vuoi te qua invece è abbastanza incomprensibile se se non avessi spiegato che si tratta di un manga io non ci sarei arrivato assurdo poteva essere benissimo un'edizione speciale particolare capito senza essere per un manga bello ora proseguiamo con il samurai questo qua è un samurai l'ho riconosciuto sono bravo il mio diver preferito è un save the ocean veramente con queste sfumature di colore che vanno dalla superficie dell'oceano alle profondità dell'abisso che rende veramente l'idea oltre che in teoria dovrebbe essere un orologio in cui una parte dei proventi viene dedicata anche dal punto di vista ecologico io ci credo un po' fino a domani ma insomma poi ho tre eccoli il primo sarebbe perché ha delle parti aftermarket trovare un po' del tutto originale oggi è veramente difficile ci si può riuscire i pochi che ci sono hanno prezzi proibitivi io ho sempre adorato questo colore giallo oro del quadrante mi sono accontentato sapendo però che alcune parti sono aftermarket su questo aprirei una brevissima parentesi quali sono a mio avviso se uno non è un collezionista un purista assoluto del della collezione di un marchio avere un orologio con qualche perché carrer e la referenza siano quelle corrette avere anche un orologio con qualche parte aftermarket non è un peccato mortale specie se lo si usa questo è stato revisionato funziona molto punti di vista no c'è chi vuole le cose perfette chi sia tutto dipende tutto dal nostro livello di tolleranza cioè di di accettazione del dell'errore mettiamola così io da parte mia so benissimo che ci potrei avere qualche longin di quelli che occhi non ha la corona originale no non sono convinto cioè credo che siano tutte originali però il dubbio c'è sempre non lo sai mai vai a vedere le foto del passato poi magari becchi la foto che non c'è quella originale pensi che segue insomma il dubbio c'è sempre che qualcosa non ci siano e c'è sono anche disposto la corona originale se c'è bene se non c'è a volte mi fermo a volte vado oltre e la prendo dico magari un giorno ne cercherò una la faccio mettere ok è tutto personale io qua non riesco a capire quali siano le parti non originali aftermarket io vedo la lancetta cronografica differente di colore rispetto a quella dei secondi potrebbe essere un viraggio di differente ma sicuramente c'è qualcosa che non quadra poi vedo la la bag interna c'è il rio che è ruota è ruotato il triangolino è spostato rispetto al 12 quindi non capisco cosa vuol dire quello però poi il resto probabilmente la ghiera non è la sua la lunetta non è la sua non lo so me lo dici te però se ce lo spiegassi sarebbe utile anche gli amici no per capire guarda questo è così è così è così doveva essere così molto bene e quando l'ho al polso francamente mi dà la stessa idea di avere il pogo originale con le sue parti originali il primo 61 39 questo è l'orologio della mia gioventù ce l'ho da quando avevo 16 anni e porta proprio i segni del tempo mentre quest'altro 61 39 che è detto bruce lee bruce lee e non so il perché era anche questo di proprietà lo usava mio padre questo è un lord matic lord matic si vedono spesso questo un po entry level nella tra i seiko però mi piaceva molto questo contrasto tra il quadrante grigio perlato e l'acciaio poi abbiamo due seiko elnix elnix che non sono il quarzo come ben sai gli enix sono orologi elettromeccanici che vanno un po sulla linea del bulova acutron anche se funzionano in modo totalmente diverso no non è come il bulova acutron perché il bulova acutron è al diapason questo non è al diapason questo al bilanciere elettromeccanico allora riassumendo negli orologi qual è il punto di riferimento per il tempo il bilanciere negli orologi meccanici il quarzo che vibra negli orologi al quarzo il diapason che vibra negli orologi al diapason questo qua ha il bilanciere ma è a batteria cioè elettromeccanico è tutto elettrico tranne il bilanciere e ruotismi che sono il punto di riferimento il bilanciere punto di riferimento quindi oscilla poi tramite un magnete bla bla è più simile al calibro di no jean 72 14 che ho anch'io c'è un cioccolatone elettromeccanico così che poi era fatto da esa e un consorzio elettromeccanico ma non è al diapason non è da confondere con il bulova no 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 a me piacciono molto soprattutto questi quadranti colorati che trovo molto belli molto belli un normalissimo seiko 5 su cui non mi dilungo bello un bull head eccolo anche questo con parti aftermarket però anche questo ben funzionante e un semplice automatic però dalla cassa un po di forma un po diversa dal solito bello si piace non è tra quelli che in questo momento preferisco vabbè però in collezione dopo l'ultima scatola ecco la di orologi abbiamo questi due seiko advan questo ha il vetro di protezione come vedi forse riesco a fartelo vedere che è sfaccettato a queste sfaccettature un po esagonali quest'altro invece col vetro normale e questo quadrante che a mio avviso è tra i più belli che seiko abbia mai prodotto questi tre orologi che adesso inquadro sono quelli che in questo periodo porto più volentieri perché al mio polso stanno veramente bene sono questi due kinetic vediamo se riesco a dargli la luce giusta in particolare questo lo amo molto questo che sto inquadrando in questo momento al centro con questi riflessi azzurri quadrante soleil blu scuro soleil vabbè la tecnologia kinetica a me non piace tanto non l'ho mai sopportata più di tanto cosa sarebbe un orologio al quarzo al quarzo che piuttosto che avere una batteria per mandare tutto l'ambaradan a un accumulatore e questo accumulatore come si ricarica tramite il rotore quindi c'è un rotore come negli orologi meccanici che fa avanti e indietro e come fosse la dinamo no carica la batteria trip 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 e secondo me l'ho sempre detto è un po la tecnologia come uno uno scava un buco e l'altro lo copre stiamo lavorando uno uno scava e uno buco cioè l'energia anche perché nei primi perlomeno adesso non lo so cosa succedeva che se si scaricava completamente l'accumulatore per dargli per attivarlo per farlo iniziare a vivere occorreva un sacco di energia un sacco di giri del rotore quindi ti vendevano anche una macchina apposta dove mettere una scatola del tempo facciamo conto dove mettere l'orologio collegarlo la corrente per muovere questo rotore e caricare l'accumulatore cavolo io devo attaccare la corrente una macchina per far muovere un rotore per caricare la batteria capito poi a quarzo almeno però in una collezione di questo tipo ci stanno benissimo sono perfetti perché da quello che vedo hai tutte le tecnologie di vari calibri no addirittura c'è elettromeccanico c'è il kinetic ci vorrebbe un solar ci vorrebbe un bel quarzo ci vorrebbe meccanici cronografi per ora stai andando con tutte le varie sfaccettature e quest'ultimo arrivato da poco tutti e tre allora i due precedenti sono kinetic mentre questo invece è un automatico bello simpatico concludo cosa abbiamo due presagie questo con questo dial raggera molto elegante questo che è un po un errore di gioventù mi piaceva l'idea di vedere il meccanismo il movimento cosa che adesso mi ha un po stancato e che rende un po più difficile la leggibilità quando ci sono le lancette da quelle parti poi abbiamo tre quarzi sono tutti di alta gamma anche se so che tu non apprezzi quarzi però abbiamo un gran seiko di produzione piuttosto recente questo è veramente al polso è una piuma elegantissimo design meraviglioso un bracciale un bracciale che è forse il più comodo che io possiedo un altro gran seiko un po più datato rispetto al precedente e per ultimo questo king seiko al quarto con questo dial che a queste righe verticali che giocano su due toni diversi di grigio bene sono stato sotto gli otto minuti bravo dovrebbe essere ancora nel tuo range se ti ringrazio ancora una volta saluto tutti gli amici saluto 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 è bravo l'amico qua se chi sta lui fa la collezione praticamente di seiko c'è varie tipologie non ho visto un 36.000 alternanti ce l'avevi forse sì forse no sì forse il primo non mi ricordo insomma tutte le tecnologie dei calibri ce le ha quasi tutte poi va avanti e si può divertire anche a rimpinzare la collezione bello bello occorre anche studiare perché prima di prendere uno di questi orologi un pochino studiare dietro quello che vuoi prendere quello che c'è la particolarità un po come facevi con le lungine il divertimento è anche lì no magari prima di prendere un orologio ci metti due mesi e te in quei due mesi li studi quindi è cioè il possesso è diciamo propedeutico no lo studio è propedeutico al possesso però il possesso è finalizzato allo studio nel senso che no prima viene lo studio quindi te studi per chi vuoi ha capito si mi sono spiegato comunque bravo 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 begli orologi mandane altri prossimo video ciao davide sono ciao gennaro napoli napoli allora fermiamo subito perché stavamo parlando di lungine ed ecco qua questi bei tre lungine quello su e il taxedo cos'è heritage classic questo qua giù qua è fatto di parte l'heritage classic belli assai sono moderni ma che rifanno si rifanno al passato la nostra vita è insomma di tante parti connesse ma indipendenti strutturate ma non prevedibili l'orologio perfetto è quello che si adatta ad ogni tua sfaccettatura bravo l'orologio perfetto è quello che si adatta ad ogni tua sfaccettatura quindi è l'orologio che si deve adattare a me e non io all'orologio ma io mi devo adattare all'orologio se no non ne compro nessuno ti faccio innanzitutto i complimenti per il canale grazie l'onestà la schiettezza e la leggiadria con cui leggiadria parli dei segnatempo che tanto ci appassionano leggiadria ti mostro un po qualche mio pezzo partiamo da un classico quarzone in questo caso si utilizzo per fare lavoretti manuali bravo battaglia no nulla da dire su questo orologio ma no in tanti lo possediamo passo poi a questo qq city zen fa parte del gruppo city zen questa qq la bilancia un giocattolino praticamente un orologio che pagato tipo 10 euro viene fornito però col cinturino in pelle io ci ho montato questo qui ogni tanto lo indosso e si fa notare per non so se per la sua bruttezza o comunque per la sua particolarità sembra una bilancia per cui faccio vedere voi questo un altro quarzo che apparteneva a mio nonno di una marca sconosciutissima zedon ginev io ho dovuto far cambiare il movimento all'interno per rimetterlo a nuovo lo tengo più che altro per ricordo bravo poi poi sto polgio paliot russo col suo calibro 31 33 se orologio che ho sempre apprezzato acquistato mercatino che non indosso spessissimo però ci tenevo a tenerlo in collezione anche per ricordare un po un viaggio in russia che ho fatto qualche annetto fa bravo la placatura se ne va passiamo a qualche seiko 5 da questo qui con numeri arabi molto carino si parte bracciale diciamo integrato si parte col suo 7s 26 diciamo da la particolarità di questo orologio appunto il quadrante la forma che non è facile diciamo da reperire poi questo 6.5 che se non erai recensito anche tu se molto per 4 r36 avevo la variante in grigio però l'ho cambiata volentieri con questo qua in blu che è tutto un altro effetto orologio molto bello molto per lo sabbile per tante occasioni certo ci piace da colore blu molto meno secondo il mio punto di vista molto più bello rispetto al grigio che sembra un po piatto grigia grigio il dial grigio poi tutta diciamo la cassa e bracciale invece col blu viene molto più esaltato poi un diver orient ma co2 acquistato recentemente anche se abbastanza grosso per il mio polso deve essere così centime dai ma co2 deve essere così 42 mm cioè un diver deve essere così non il maco 2 42 mm il camasio il maco il mio mega si master 42 mm che vanno benissimo 42 41 40 per fare i fighetti 39 come il mio legend diver però è senza ghiera è tutto quadrante poi basta più basso no 38 37 36 li mettete voi ci avete il polsino bello il maco mi piace è uno di quelli che quasi quasi potrebbe essere competitor con il mio prossimo acquisto è tre leve no voglio prendere anche il citizen pro master marine oppure quello in titanio fujitsubo fujitsubo oppure anche ma oppure che non riprendo un kamasu non lo so vediamo un pochino dai guardiamo cosa dice il destino metri però i diver non fa niente si possono indossare un po più grossi o grossi orologio che mi ha sorpreso ho preferito prendere questa variante diciamo non recente non l'ultimo modello perché mi piaceva di più anche il colore del quadrante della ghiera per l'utilizzo che deve essere deve essere utilizzato ma più che bene più che veloce un altro quarzone però ti so ti so volutamente al quarzo perché diciamo all'epoca è una riedizione di degli anni settanta era al quarzo quindi volentieri l'ho preso al quarzo questa è la versione 35 mm con il quadrante verde non avevo un orologio verde ho preso questo qua che è molto carino le finiture di questo orologio si le conosciamo bene che è un orologio molto molto bello come dicevo poi passiamo a questo jema rally graph volevo un cronografo panda per la mia collezione e avendo appunto polso molto sottile e quindi risultano tutti molto grossi e pesanti ho preso questo qua volentieri che è abbastanza sottile monta un movimento mecca quartz seiko dovrebbe essere un movimento che ha modulo sia al quarzo che meccanico anche se comunque ho letto un po di opinioni contrastanti su questo genere di movimento non so se mi puoi dare qualche info in più in merito è un orologio a quarzo non è non è che è meccanico ibrido è al quarzo c'è solamente un sistema per fare in modo che la sfera dei secondi si resetti velocemente come nei cronografi meccanici nei cronografi meccanici quando ti stoppi la sfera cronografica poi la resetti tu torna indietro e va a zero in cui nei cronografi al quarzo invece stoppi la lancetta cronografica e per azzerarla c'è il motorino passo passo che la fa girare tutta in senso orario tra riporta lo zero lentamente però lentamente rispetto qua hanno fatto un escamotage con questa molla e ruota che te lo azzerra subito al volo è un calibro al quarzo e monta questo vetro se non erro si chiama k1 che è un vetro molto resistente agli urti dicono così si dice anche più dello zaffero però resistente ai graffi poi passiamo a questo emilton khaki field da 38 mm bello simpatico orologio iconico bellissimo col cinturino lo preferisco col cinturino in pelle che esalta risalta molto di più la cassa e le sue forme bravo col suo movimento h10 preciso millimetri va bene preciso l'orologio a cui sono molto affezionato mi piace tantissimo e viva e viva poi poi passiamo a questo longin flagship che mi sono regalato per i miei trent'anni un doppio uno dei marchi che più mi piacciono orologio molto diciamo elegante per serate più formali formali piccoli secondi data a ore 6 38 mm di diametro questo qua perfetto è un ricordo dei miei trent'anni e infine ti faccio vedere il mio orologio preferito questo prato o oggi è bellissimo che adoro dalle finiture di livello vetro bombato bracciale a chicchi di riso comodissimo e bellissimo da vedere con i suoi sbrilluccichi bellissimo è il mio orologio preferito diciamo della mia collezione niente davide grazie mille per la per lo spazio riservato e ti mando un abbraccio ciao 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 lo spazio riservato e cos'è un parcheggio no bravo è bellissimo qua tutti per gli orologi naturalmente nulla da dire bello bellissimo il radio golden horse blu io ce l'ho avuto nero tra l'altro c'è una curiosità c'è il fatto che sono usciti in edizione limitata sono usciti se non mi sbaglio nel 2019 insomma nel 2020 nel 2020 mi sembra c'era il covid quando io l'ho preso tutti ne sono quattro quattro versioni mi sembra blu nera rosso forse tre tutti a 1950 pezzi uno in edizione limitata e si riescono a trovare ancora alcuni non tutti mi sembra una colorazione finita dopo così tanto lungo tempo perché questo orologio qua questo modello ha avuto successo sì in italia ha avuto successo in italia ha avuto successo in italia l'abbiamo comprato in tanti all'estero non sono fila nessuno quindi tutte queste la maggior parte di queste edizioni limitate di questi pezzi sono finiti in italia e a volte anche lì dal mio amico giacomo della gioielleria pasquale domenici salta fuori no il radio golden horse perché si riescono ancora a reperire a reperire ma stanno per finire prima o poi finiranno bene niente da dire dai sei promosso il mecca quarsito spiegato cos'era contenti tutti e contenti tutti sì ci sta anch'io a volte ci penso un mecca quarsito ad esempio no per andare in palestra e cronometrare i tempi di recupero e bai ci vado con lo speed master ci vado con l'emilton intramatica ecco una considerazione da fare tra l'emilton intramatica e l'omega speed master porto più volentieri lo speed master perché perché l'omega speed master a i pulsanti cronografici affogati nella cassa che anche leggermente asimmetrica quindi a offre maggiore protezione ai pulsanti in caso di urto non fa una leva lunghissima nell'emilton intramatica ai pulsantini a fungo proprio belli lo stelo con la capocchia che viene fuori bella sporgente se prende un colpo tutta questa leva va a piegare sicuramente qualcosa quindi ci porto più volentieri questo dicevo un mecca quarts ecco potrebbe essere anche un orologio da indossare magari in palestra ma siamo alle solite se mi prendo un mecca quarts un cronografo mecca quarts poi dopo cosa faccio rinuncio ad indossare questo o a indossare l'emilton perché almeno se si rovina si rovina quello lì e questi qua quando me li metto mai perché sennò paura che si rovinano quindi è meglio che non ci penso a prendere un mecca quarts e continuo a far vivere questi due orologi questi due cronografi per quello che per cui sono stati creati cioè far partire col pulsante stoppare col pulsante resettare ridare la via metterlo sotto stress e devi fare quello scatto pagato dei soldi qualcosa dovrai fare non è la vita se no stai sempre riposarti sono buoni tutti ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto e avere anche detto troppo io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti gli orologi i video e il mio video così come il presentatore e l'orologio del giorno vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love